E già chi già è? Bologna? 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 Sono? Ehi, asti asti asti, asti. Ehi, che si è? Vedi, che si è? Papà, papà! Sono, sono, sono! Sono? Sono, sono! Sono, sono! Sono, sono, sono! Sono, sono! Sono! Umi, sono, sono! Claro! Ehi, che si è? Papà, claro! Sono, sono, sono! È. È! È! no 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 oh Il vivo, il vivo, il vivo. Il vivo! Il vivo, il vivo. grazie. a 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